Oggi non so se vedi anche le luci un po' più lugubri, voglio parlarti dei lati oscuri della ex. Eh sì, perché la tua mente già c'è la mente tutta ad idealizzare quella persona. Cerchiamo un po' di toglierla dal piedistallo, che ne dici? Quindi oggi vediamo tutti quei lati oscuri, quelle crepe nel muro che devono farti capire che non ha a che fare con una dea, ok? Ma non prima ovviamente di averti ricordato chi sono, perché io sono Marco e sono un consulente relazionale laureato in psicologia che già da diversi anni si occupa di aiutare persone motivate di successo però che stanno vivendo una situazione di intoppo nella loro vita sentimentale e vogliono quindi investire e mettercela tutta per ritrovare il loro benessere a seguito del lutto da separazione e poi se la persona amata in questione è meritevole anche ricostruire con lei. E allora se hai questo genere di motivazione non indugiare, vai in descrizione e scopri subito se si può lavorare assieme sulla tua circostanza. Ora, parlato di tratti un po' lugubri, ma qual è il primo che mi viene in mente? Beh, innanzitutto che in molti dei casi che voi poi ci raccontate, l'ex è stata spietata nella rottura. Non ha avuto pietà, magari si è fatta veramente i conti in tasca fino in fondo e poi ti ha servito il conto solo all'ultimo. Senza darti neanche la possibilità di rimediare, senza dare a voi due la possibilità di essere migliori di prima. Con quella rendevolezza che fa completo contrasto con quello che ti ha dimostrato fino a quel momento. A volte, fino a poco prima, ti diceva di amarti, che vedeva un futuro con te, ma già sotto sotto stava eccome coltivando. Magari ti diceva queste cose perché si sentiva in colpa di nutrire questi pensieri e questa progettualità in cui tu non c'eri. E allora, per pulirsi la coscienza, diventava ancora più dolce nei tuoi confronti. E questo vale sia per uomini che donne. Perché ricordati una cosa, caro mio o cara mia. Finché le cose vanno tutte bene, è facile, siamo buoni tutti, a essere dei partner perfetti, dolci ed amorevoli. E quando i sentimenti calano un po', come è fisiologico che sia, essendo delle oscillazioni che ricordano le azioni di borsa, lì si vede veramente chi ha resilienza, chi ha progetto. Perché molti davvero pensano che basti solo il sentimento a creare una coppia, no? Ci vuole volontà, ci vuole perseveranza, ci vuole anche il fatto di andare contro le proprie emozioni. Cioè dire, ahia, le mie emozioni stanno un po' calando, però io le compenso col mio impegno. Cioè già una persona che si è comportata così, sicuramente ti dà da pensare. Non voglio distoglierti dalla riconquista, ma ti ripeto, il mio obiettivo non è quello, non è toglierti l'amore. Già mai. Semplicemente non idealizziamo chi non merita di essere idealizzato. Come anche lì, la tua ex che dice, ah, sto così male, dopo la rottura ho bisogno di stare da sola. A volte questa è una gran verbalizzazione, quando in realtà magari la tua ex si sta già facendo i beati fatti suoi con un'altra persona. Poi, oh, non è che questa diventa una storia importante, è magari una frequentazione d'appoggio, una relazione d'appoggio, quella roba lì. Ma intanto ti sta facendo credere che lei è lì sola, sofferente, quando in realtà si sta facendo i bene amati. Così ti tiene agganciato col senso di colpa. Lancia fumo negli occhi in modo da farti capire che anche lei, insomma, è un po' così e cos'ha, non benissimo. E anche lì, torniamo un attimo al discorso di prima, cioè finché va tutto bene, è facile. La formula che dice il prete quando ci si sposa, ve la ricordate? In salute, in malattia, in difficoltà, no? Cioè, quelle parole lì vogliono dire qualcosa oppure no. Magari stava con te perché eri in un momento particolarmente brillante, ma appena hai avuto un momento di difficoltà, magari prolungato di due o tre mesi, ecco lì che ti ha abbandonato. È vero, ragazzi, parliamoci chiaro, è nostro compito dimostrare che nelle difficoltà ce la barcameniamo, che non ci facciamo sovrastare dalle stesse, perché questo è il modo in cui dimostriamo di essere persone stabili, affidabili sul lungo termine e meritevoli quindi di un progetto delicato come è quello della famiglia. È verissimo, però tutti noi abbiamo dei periodi in cui siamo giù, ragazzi. E sapere che la persona che ti ama sta al tuo fianco solamente per i picchi positivi, ma non è disposta ad affrontare quando l'onda si infrange, lì non lo so. Lascio a voi le conclusioni, non le trago io, le traete voi. E ne potete trarre molte di più facendo un percorso con noi o parlando con i miei coach esperti, i quali sapranno indirizzarti al meglio se valga la pena o no la tua riconquista e quale percorso tu debba fare. Perché parliamoci chiaro, tutti devono fare un percorso dopo la propria rottura. Alcuni si affidano al fai da te, molto spesso sbagliando. Altri si affidano a professionisti di dubbio gusto, sbagliando doppiamente. Quello che noi vogliamo è che questo momento sia per te una grandissima opportunità di rinascita. Soprattutto per te stesso e poi ben venga, se ne farà parte anche l'altra persona di questo grandissimo rinnovamento che tu avrai. Ben venga, ma non è la condizione qua non, è un di più, è un valore aggiunto. Un'altra ombra malvagia della tua ex è il fatto che vada in giro a dire delle falsità screditandoti pur di uscirne pulita e profumata. Questa è una forma di manipolazione veramente vergognosa. E so di molti di voi che sarebbero disposti a perdonare anche questa cosa qua. Cioè lei va in giro a dire che io l'ho fatta soffrire. Quando in realtà quello che è successo è che semplicemente la relazione si era un po' appiattita e basta. Ma di lì a farla soffrire facendomi passare come quello che la seviziava in casa non è assolutamente vero. Quante volte ho sentito situazioni di questo genere? Ah ma magari il vostro cliente non vi ha detto la verità, in realtà faceva quelle cose. Ma che senso avrebbe una persona che ci paga e ci dice cose non vere alterando la verità dei fatti. Quindi alterando anche tutta la bontà della nostra strategia. Ma dai è assurda sta cosa. Un'altra cosa che è veramente disgustosa è quando durante un ricontatto una ex ti risponda come se tu fossi veramente un lebroso. Magari veramente la storia è stata una storia importantissima. Tu non hai grandi responsabilità. Magari si è affievolito il sentimento e lei ti tratta pesci in faccia. Proprio veramente come se fossi portatore di una nuova malattia pandemica. Questo è veramente vergognoso perché io capisco che lei ti voglia mandare dei segnali per tenerti a distanza. Ma a maggior ragione se tu non hai fatto errori di inseguimento, non l'hai stressata dopo la rottura e ti ripalesi. Quanto meno la decenza di trattarti con garbo, quello mi sembra dovuto. Invece no. Proprio della serie, vabbè ormai tu sei il passato, non ti voglio più, fai schifo. Finito, basta. Ripeto, se tu ti sei meritato questo trattamento per comportamenti veramente balordi, atteggiamenti di sopruso, da dominatore, controllante, possessivo, ti meriti anche peggio veramente. Ma se no, ce ne sarebbero molti altri da dire. Però l'importante è che tu abbia compreso che certe cose che succedono non sono normali. Come non è normale per un ex dire non sento più l'innamoramento di prima. Ma è ovvio cazzo, in una storia lunga è ovvio che il sentimento si evolva. Quindi anche lì ti cadono le braccia. Quindi fai le tue riflessioni, ricordati che non stiamo parlando di una dea, cerchiamo di guardarla nitidamente, per com'è, anche nei suoi difetti, perché l'unica persona che deve stare sul piedistallo della tua vita sei tu. E se non ci arrivi da solo, ti aiutiamo noi ad arrivarci.